Ciao Taylor, benvenuti in Verona. Come ti senti di essere qui? Qual è la tua prima impressione? Sono molto felice e questa è un'opportunità incredibile per me. Sono felice di incontrare tutti e vivere nella bella città di Verona e giocare per Calzedonia Blue Volley. Sono molto felice. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti!